Il Ministero della Giustizia ha risposto ufficialmente all'Ordine degli Avvocati di Teramo che l'8 aprile scorso aveva inviato una nota con PEC rimarcando la situazione degli uffici giudiziari di Teramo da mesi afflitti da problemi connessi alla carenza di organico e ha convocato una riunione a Roma nella propria sede per il 6 maggio. Al Tribunale di Teramo non è stata infatti assegnata alcuna unità pur avendo un carico di lavoro superiore a quello della media di tutto il distretto pari solo a quello del Tribunale di Pescara ed è la prima volta che un Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo viene ricevuto dal Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia. Questo non può che farci piacere, apprezziamo anche l'attenzione che il Ministro Cartabia ha voluto dare alle nostre segnalazioni che sono segnalazioni non di campanile ma che sono legate alle nostre esigenze, cioè alle esigenze del territorio, dei cittadini, delle aziende. Cosa manca? Mancano due cose, soprattutto due cose, manca il personale amministrativo e mancano i magistrati, cioè i magistrati che abbiamo, il personale amministrativo che abbiamo non è assolutamente adeguato rispetto al lavoro, al carico di lavoro che il Tribunale di Teramo ha, cioè il 38% delle procedure concorsuali sono sul Tribunale di Teramo. A fronte di questo abbiamo soltanto due giudici delegati che lavorano tantissimo ma hanno un carico di lavoro rispetto alla media distrettuale del 35% superiore. Pescara ha tre giudici delegati, noi abbiamo due giudici delegati. Oppure un altro settore importantissimo è quello del settore penale. Noi quest'anno abbiamo otto procedimenti in corte d'assise, quindi per reati gravi, nonostante non abbiamo il Presidente di sezione penale. Anche la politica vi appoggia, anche il Consiglio Comunale? Sì, il Consiglio Comunale con molto piacere, su mozione del consigliere avvocato Pilotti, ha approvato una mozione di sostegno alla nostra azione e ha chiesto anche l'intervento della provincia che sia un'azione coordinata. A noi questo non può che farci piacere. Sono certo che anche tutti gli altri sindaci della provincia faranno la stessa cosa perché questa è una battaglia, ripeto, che riguarda non gli avvocati, i magistrati e il personale, o meglio non solo loro, ma riguarda il territorio.